Così come lo sono stati anche quelli di alcuni quotidiani internazionali che negli ultimi giorni ci hanno dato degli scrocconi. Periodici che ci hanno preso in giro diffondendo l'immagine di un bot italiano da 5 euro con la foto epica di Marco Tardelli di Spagna 82. Vignette che ritraievano Luigi Di Maio e Matteo Salvini come due malattie che si avventano sul corpo dell'Italia. Quanto possiamo accettare ancora tutto questo? Noi no, non possiamo più accettarlo ma purtroppo qualcuno lo ha fatto. Com'è infatti possibile che un Presidente della Repubblica esprima un giudizio che non riguarda in alcun modo l'adeguatezza o meno di un possibile Ministro bensì il suo pensiero e le sue idee? Il Presidente della Repubblica lo tenga fuori, le sa che ci sono dei limiti. Tengo fuori il Presidente della Repubblica ma non le sue responsabilità. Ci sono dei limiti costituzionali, non possiamo travalicarli. La ringrazio Presidente. Tengo fuori il Presidente della Repubblica ma non le sue responsabilità. sia chiaro, sia chiaro. Nessuno, sia chiaro Presidente, nessuno in questa sede vuole contestare le prerogative costituzionalmente garantite del Capo dello Stato. In quest'Aula forse nessun'altra forza politica come il Movimento 5 Stelle ha lottato per difendere la Carta Costituzionale. Ma permettetemi di dire che è inaccettabile porre un veto sulle posizioni, sulle idee di un Ministro, le quali per logica rappresentano l'indirizzo politico del Governo e che a loro volta rappresentano dunque la volontà di più della metà degli italiani che si espressa nel voto del 4 di marzo. Non è che si può pensare di prendere la volontà popolare, metterla da parte e tirare dritti senza porsi immediatamente e minimamente il problema. Anche perché un tale comportamento può determinare un rischio, ossia che i cittadini si allontanino ancora di più dalla vita politica disertando persino le urne.